Entrare subito in clima partita, Gafurra al servizio. Nastro, c'è Pippolasa che la prende De Cecco per Ricci. Segniamo anche questa. Questa è una grande alzata di Luciano. Infatti Max lo va subito ad abbracciare, tutta l'indicare lui, perché ha fatto una magia. Come ormai siamo abituati, ma noi non ci stanchiamo mai di apprezzarle. Luciano De Cecco, la mano di Dios.